I diritti nascono dal grembo fertile e gravito della dignità, che è la madre partigiana dei diritti. Rigenera e poi scende a combattere a fianco a loro. Al popolo palestinese è negata la dignità dei suoi figli individualmente, socialmente, ed è negata la sua dignità di popolo. E che questa infamia venga commessa dal governo di un paese che si divinisce democratico è un'infamia che grida vendetta al cielo.